Ma che cosa significa minchia in italiano? Ora, è chiaro che minchia in italiano è il famoso organo maschile. Però, se tu arrivi in Sicilia, cioè stai atterrando, stai attraccando, stai scendendo dal treno, stai scendo dalla macchina, e senti dire la parola minchia, il siciliano è come se fosse una piccola virgola. Ma qualsiasi conversazione senti in Sicilia, e senti la parola minchia finale, o minchia iniziale, o minchia a metà della frase, sei tranquillo che non è un modo per offendere, non è un... No, 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 è la normalità delle cose, è una virgola trasparente, ma c'è, la devi sentire. E comunque la parola minchia assume un terremoto di significati. E ora li andiamo ad analizzare. La parola minchia può essere stupore, quindi ad esempio compi la macchina, minchia che è bella, è normale, si aggiunge. Comprato un vestito nuovo per il matrimonio? Devo farti un apprezzamento? Minchia ma è bella questa cammina, bello questo vestito. Ti sei fatto fidanzato e io lo dico al tuo amico, l'amico ti guarda, minchia ma sono contento per te, finalmente. Nel caso tu sia arrabbiato, anche in quel caso si può utilizzare. Hai l'appuntamento con l'amico e arrivi in ritardo? Minchia, compà, beve mensura che ha spiato. In viaggio stai vedendo qualcosa di meraviglioso, qualcosa di bello? Minchia che è bella questa isola. Come potete notare, ogni cosa, la parola minchia, se utilizzata al preciso momento, modifica il significato della frase. La migliora, ti fa stare bene. Alle volte ci sono quei siciliani che la utilizzano anche in maniera abbreviativa, quindi dicono miiii. Ma sono quelli che chiaramente pensano che se utilizzano la parola estesa possano risultare volgari. Ma in realtà non è così. Potrei continuare questo video TikTok per altre, come minimo altre dieci ore. Però minchia, poi, è troppo pesante. Quindi, minchia, dovete saperlo usare. Perché migliora il vostro concetto, rafforza il concetto. Minchia, raga, finìo, boys. E vediamo.